Una vera festa del calcio che ha unito società, tecnici, dirigenti e atleti di tutte le categorie della provincia di Taranto. Il Gran Gala del Calcio, organizzato sabato sera dall'Ellas Taranto, ha ottenuto consensi unanimi. Sul palcoscenico dell'Ellas Arena di Faggiano sono state premiate le eccellenze del calcio ionico. Hanno ottenuto riconoscimenti, tra gli altri, il Taranto Football Club, rappresentato da Riccardo Caracuta, Fabio Prosperi, la famiglia Gori, Graziano e i due figli Ghigo e Mauro, Luigi Panarelli, Vittorio Galigani, Franco Danza, Alfredo Paradisi, Francesco Mignogna, Giorgia Cannella, Giovanni Fischietti, Sergio Bruno e il presidente dell'Ellas Gianni Occhinegro, organizzatore della serata. Lo abbiamo ascoltato. Quella di stasera era una festa per noi e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quello di coinvolgere tutte le società, dalle società maggiori alle scuole calcio, per far sì che creassimo una partecipazione, una festa, una collaborazione, anche un inizio di una nuova stagione che possa vederci protagonisti in un rilancio calcistico della provincia di Taranto. La sensazione è quella di aver visto tanti amici passati e presenti, incontrarsi a bere una cosa insieme, a inaugurare quella che per noi è la casa degli sportivi, che è lo Sport Café qui all'Ellas Arena. E qui insomma è stato bello vedere anche tanti giocatori del passato, del presente, allenatori, insomma, quindi presidenti. Quindi siamo stati bene, è una bella festa. La Kermess si è conclusa con la musica trascinante dei Vasconnessi, popolare cover band di Vasco Rossi.